PREGHIERA DEL MATTINO Dio, Padre Onnipotente, il Tuo Verbo si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi per farci rimanere con Te. Manda il Tuo Spirito nei nostri cuori oggi perché ci ricordi l'insegnamento di Cristo e ci faccia osservare in comunione con i Santi i Suoi comandamenti, ora e sempre. Amen